ottimo usa una pietra ombra quindi recupera il contenitore spiritico come sudano qua eh porca c'è ancora te? cento efe l'ho graccato uno dentro con lui ma che c***o ma che c***o ho io ok 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 pizzi ti posso sbruzzare un box alto credo eh io ho dei problemi cento non posso non ho più business ok ho preso io smuzzbitch un altro team ancora efezzi vieni dietro vieni dietro dentro con lui e questo qui è il pacchetto level up con dentro due nuovi gusti non lo guardo non lo guardo piano 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 ouch ouch lo prepara per chi non lo sapesse io qua ho lo shaker che segna fino a mezzo litro shaker mezzo litro d'acqua ecco fatto un misurino di prodotto porca vacca è blu chiudiamo shakeriamo shake 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 aia ha il colore del mare vado con l'assaggio mmmm eh ma che buono mirtillo e limone insomma ragazzi nuovo gusto e c'è anche una promozione con il codice xuderone2 avrete l'offerta del 3x2 quindi comprate 3 gusti mettete il codice xuderone2 1 è gratis è uno sconto esagerato let's go parca porca c'è tutto aah 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 per quanto non l'ho ucciso xiu ero un figa di pelo salve ciao sta bene? lascia perdere un anno fa mi ha contattato in sede privata per suggerirmi una proposta e mi ha detto brutal perchè non usi il tuo sapere culinario e lo condividi con xuder e gli ho detto eh c'hai ragione e allora è venuto fuori questo per cucinare la fagiana serve della fagiana e della patata velare le patate e cuocerle con 9 grani d'olio in padella cuocere la fagiana nel FARNO 737373 minuti servire ben fredda accompagnandola con un po' di salame del fanti o banana del sile hai finito di fare il s***** ce lo faccio io te lo dico trova la f***** oh 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 ma che fai? cosa fai? io ho paura a toccare qualsiasi cosa perchè? perchè? tanto non puoi fare nulla l'Africa è inutile che provi ti ricordi i film Titanic? si ok grazie sono ancora così dovresti cambiare il numero di telefono lo sai? ah scherzi no no che schifo dai che schifo dai che schifo dai è proprio un grande maialona vedeva i fucili a pompa invece non c'erano i fucili bravo sio ne ha riconosciuto un altro con due di vite c'è lo spazio di gendale corco il cazzo Jack ha fatto il pazzo ma porca tro porca tro Jack il pazzerello all'occiuderello si è abbonato qua che cazzo fa? allora che cosa fa? per favore per favore per favore oh merda dai ma dai però ma dai devo andare via ah per favore posate un beso quando arrivi no piano non mi toccare perché poi mi sono obbligato l'orecchio l'orecchio non mi devi leccare l'orecchio ti pago 20 mila dollari per l'orecchio no no non sono una troca allora per favore mi gustavi molto però l'altra volta con l'orecchio mentre nel telefono allora se tu mi rimetti la lingua nell'orecchio mentre io sono al telefono mi incasso ok? non mi ficcare la lingua nell'orecchio non fare l'orecchio che non mi interessa per favore ci vediamo fra poco ciao ok ok allora aspetta aspetta un attimo aspetta un attimo aspetta un attimo quello lì era un pino e non era un cespuglio no ero convinto fosse un cespuglio mi butto e sfrutto il sfrutto il discorso cespuglio ho fatto un errore ho fatto un errore ho fatto un errore ho fatto un errore oh cazzo aspetta mi si è dimenticato che non si può suonare con questa cazzo aspetta ma? non si no volevo fare un colpo di clacson mi è partita la complimenti complimenti per l'entrata ha visto che roba signore la ulla nooo è perché è lo snu è lo snu è lo snu è lo snu cristo merda tra virgola tra uno e l'altro eravamo con i pantaloni ma hai fatto il sottomaior mi hai fatto però cazzo allora dai ma porca puttana non così non così chiude ma che persi hai? che persi fa? che persi fa? che cos'è? come fa a aprire questi versi? ma si ricorda si il velociraptor certo mi ricordo guarda che quello lì dovrebbero vendere il sound a jurasi park eh per essere rimasti anche oggi a guardare la adesso io non ma ma mi sono mi ha fatto cagare addosso ma vado con l'assaggio porca ma forse questo non dovevo dirlo aspetta Sion questo taglialo non penso che si possa fare in una pubblicità aspetta un attimo un po' un po' violenta come commercial ciao